Sta per arrivare la fiera d'ottobre, giostre, bancarelle e anche tanti dolciumi. Sentiamo se i rodigini hanno voglia di tornare a questa fiera e se magari hanno qualche preferenza tra le bancarelle o tra le giostre. Da per tornare la fiera d'ottobre, bancarelle, giostre e quant'altro, lei la frequenterà e è contenta anche di questo ritorno? Sì, certo, finalmente dopo due anni di pandemia, finalmente c'è il ritorno di questa fiera. Speriamo che sia bella come i primi anni. Io non sono qua di Rovigo, sono di Torino. I primi anni sono rimasta veramente colpita dalla fiera perché c'erano tutte quelle cose un po' particolari del posto. Quindi insomma me la ricordo così come ai vecchi tempi. Purtroppo speriamo che si possa vivere quel momento di tranquillità, ecco che il Covid anche quest'anno ci lascia liberi. Sono molto contento, sicuramente frequenterò la fiera, farò i miei giri, insomma, ecco. E piuttosto vorrei sapere se si farà ancora la fiera dell'elettronica che dal mio punto di vista è un evento annesso di particolari interessi per chi è appassionato o comunque interessato all'elettronica e all'informatica. Certamente, sono tantissimo contenta. È un appuntamento che ogni anno torna e frequenta ogni anno? Certamente. Sì, sì, sono molto contento che ritorni dopo questa pandemia soprattutto, che ritorni, se c'erano le bancarelle belle. Anche la fiera ho visto, ho passato per il censo, visto che erano fatte, che si faceva. È un bel momento, anche perché così riusciamo a passare un momento tutti insieme, svagati. So che porta sempre tanta gente, capito? È un bel momento, un bel ritrovo per valorizzare Rovigo, che Rovigo ogni tanto è un po' lasciato andare, capito? Speriamo che vada tutto bene. Grazie.